...il valore per i nostri caduti, perché la morte non è stata considerata eroica, è vero. Ma l'eroismo è stato nella scelta dei nostri soldati, dei nostri carabinieri e dei civili che erano con loro di affrontare i disagi di un servizio in terre straniere, in terre in ospitali, piene di ostacoli, piene di incognite, in favore di quelle disgraziate popolazioni. Ed è grazie al loro sacrificio che le Forze Armate italiane e lo Stato italiano ha ottenuto la dignità, la sua dignità e l'attenzione nel consesso delle nazioni. Ma chi erano questi nostri soldati, questi nostri carabinieri?